si sono sempre io sono qui per giocare a fnaf 1 perchè io posso ora la prima notte ve la velocizzerò perchè dai sappiamo tutti come funziona la prima notte non c'è un cazzo di nessuno si muovono tutti lentamente eccetera eccetera sempre se si muove ovviamente ragazzi potrei fare la notte 2 ma non ho neanche molta voglia devo riconoscerlo dai proviamo a fare la notte 2 ah questi bug mi lagherà tantissimo tantissimo guarda quanto è milagro allora c'è lo scristo in croce oh cazzo ci 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 cica 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 ok cica dic domani dicatò tè dem�or tassi e buona lì che ci senti calmi in cazzo la rete giustica a freddi cosa farei senza il tuo naso cica a fox che è ancora lì no ma fox non penso che mi attaccherà la seconda notte che bello il mio cursore del mouse e cica è ancora lì bene finchè stanno fermi così può anche andare questi 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 oh no raga non fate scherzi fate scherzi fate state boni state boni ok tutto sto casino del telecamere da qui ti sei spostata a qui minchia sei fortissima cica veramente un applauso te lo farei ma non posso perchè perchè non voglio ecco brava cica sembra bella ma cos'è ma cos'è chi sei arrodotto con cica eh pezzo di merda vuoi farmi gli easter egg? no easter egg? no easter egg? no freddy no no calmi ok basta ragazzi state calmi io ero pacifico ero pacifico ragazzi ok cica in cucina oh merda finchè cica resta in cucina io son contento Foxy? ok oh merda eccolo eccolo pezzo 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 di latrina oh merda io c'ho paura di cica orni? cica lì no raga no quando si è andato? state calmi ragazzi ragazzi per favore bonnie lì cica ok cica è lì ok cica in realtà l'ideale è un merda ok bonnie qui devo controllare bonnie e cica vola controllo con la luce dai dai ce la possiamo fare? oh merda ok cica finchè resta lì eh no raga state calmi state calmi state calmi la bon ok bonnie lì no raga non si può fare così però eh non potete darmi interferenza in telecamera no ragazzi ok bonnie è qui ok cica e bonnie sono ok ok bonnie ho paura di te perchè perchè non scattano le quattro? e perchè bonnie non arriva? cica non mi fare il jump scared cica non mi fare il jump scared ok cica in cucina dai che cica in cucina freddy mi raccomando cica fai la brava e vabbè però bonnie leva levati ogni tanto alla porta eh no lì prende mente? vabbè stai lì prende mente oh merda cica togli ti bonnie per favore mi fai sprecare un botto di power dai raga foxy ma che sei dai raga io non le controllo più le telecamere sono così ma che poi anche se entrano cioè non mi fanno un cazzo raga fate finire sto supplizio ragazzi raga raga per favore io c'ho paura io non apro lo schermo nooo c'ho il 6% di batteria per favore ragazzi c'ho il 6% di batteria per favore ragazzi 3% raga 2% ok cico in cucina 1% oddio raga per questo video è tutto io vi saluto e a mai più rivederci no ovviamente sto scherzando ciao raga si sono sempre io c'è la frenza sono qui raga raga